Giornata di festa allo stabilimento Onda di Atessa, siamo in Val di Sangro nel distretto dell'Automotive. 50 anni dal suo insediamento è stato il primo questo stabilimento del settore nel 1971. Oggi occupa circa 700 persone, 900 con gli stagionali e produce moto per tutta Europa. Uno stabilimento che ha anche resistito alla crisi di qualche anno fa e che oggi guarda con fiducia al futuro. Questo stabilimento va visto sotto un'altra ottica. Va valorizzato il fatto che abbia resistito nel 2012 a una crisi nera legata non solo a quella di mercato ma anche altri fattori che hanno messo sotto i riflettori uno stabilimento che ha rischiato la chiusura. Oggi grazie al sacrificio di questi lavoratori abbiamo un prodotto d'eccellenza, un prodotto di alta qualità appetibile sul mercato non solo europeo ma anche mondiale. A poche centinaia di metri dallo stabilimento Onda c'è quello della Sevel che produce il Ducato. In queste ultime settimane, in questi ultimi mesi ci sono dei dubbi sul suo futuro perché Stellantis ha anche un altro stabilimento omologo in Polonia a Givlizze. Si tenta di far restare qui l'intera produzione. 300.000 furgoni, c'è stato un tavolo a Roma ma chiaramente fa ripuntati per uno stabilimento che ha una parte importante nella produzione del PIL regionale. Vorremmo capire in via definitiva quali saranno le scelte industriali del gruppo sempre con l'attenzione a tutelare i lavoratori e le catene di produzione rispetto ad alcuni segmenti che sono qui. quindi c'è ancora da approfondire e da capire quali saranno le scelte finali. In che stato di salute è l'automotive in Abruzzo e non solo? Beh è un momento di grande difficoltà intanto perché il mercato in questo momento risente della crisi che noi abbiamo attraversato e che stiamo attraversando ancora a causa della pandemia e c'è complessivamente una discussione da fare sul sistema automotive perché non riguarda solo questo territorio, il nostro paese, ma riguarda l'Europa. Ormai le grandi multinazionali lavorano e operano in più stati, con più settori e con più situazioni sia dal punto di vista legale che dal punto di vista finanziario e soprattutto per quello che riguarda le tasse noi abbiamo chiesto al MEF di attivare un tavolo di interventi sull'automotive e di attivare un tavolo che sia in grado di coordinare le politiche industriali che saranno scelte dal governo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.